Non dico cosa si dice in genere quando fiori. Che maggioranza è? Non è una maggioranza, è una minoranza, mi pare. E quindi in qualsiasi paese normale, in qualsiasi leader normale, quando va in aula e prende 308 voti su 630, un minuto dopo si dimette. Per salvare la sua maggioranza, per salvare il suo partito, per salvare il paese. Evidentemente se non facesse nemmeno questo oggi, noi non potremmo, d'accordo con le altre posizioni, capire quali iniziative in fretta adottare per raggiungere lo stesso risultato delle vinci.